Per me Officina è un covo di talenti che cantano all'unisono per raggiungere gli obiettivi prefissati con il cliente. Sono persone orientate al risultato, orientate ai fatti concreti che amano anche divertirsi e stare bene insieme. Non mi piace fare una distinzione di genere, amo il concetto della leadership che per me non ha sesso ma ha una serie di attitudini, abitudini e comportamenti che possono essere anche imparati e non sono soltanto naturali. Quindi mi aspetto da questa serata che ci sia una condivisione di questo tipo di concetti, di unione e di condivisione. Guerriera, allegra e che ama le persone.